Per il sindacato CGL esiste l'esigenza di lottare contro l'attuale disegno di legge sull'autonomia differenziata e la necessità del coinvolgimento per la situazione critica delle scuole molisane. C'è una situazione abbastanza complessa e critica nel nostro territorio. Ecco, come sta la scuola nel nostro territorio? Allora, le nostre scuole soffrono ovviamente, sono in grande sofferenza, soprattutto a causa della mancata conferma del personale Covid che aveva dato un po' di respiro alle istituzioni scolastiche. Sappiamo infatti che le nostre scuole, è vero che soffriamo lo spopolamento, però questo non significa che perché soffriamo lo spopolamento non ci sia chi comunque resta e siccome le nostre scuole sono dislocate un po' dappertutto, sono disseminate su tutto il territorio ovviamente bisogna garantire anche a quei pochi che ci sono i diritti, il diritto all'istruzione. Questa riduzione, diciamo questo non garantire, non confermare il personale anche dell'anno precedente ha portato molte scuole ad una grave sofferenza. A volte abbiamo dei plessi dove per esempio c'è un solo collaboratore scolastico che deve occuparsi dell'apertura e della chiusura, quindi questo significa che veramente si lavora in grande affanno. Ovviamente qualora dovesse, in realtà il dimensionamento scolastico non è che qualora dovesse essere attuato, ormai con l'articolo 89 della legge di bilancio è una realtà, quindi dal 2024 al 2025 comincerà ad andare a regime e significa che nel giro di 10 anni le nostre scuole perderanno circa 20 istituzioni scolastiche, 21 per essere precisi e questo significa che non solo diminuiranno i dirigenti scolastici, diminuiranno i DSGA ma automaticamente diminuiranno anche proprio i plessi nei quali si potrà garantire il diritto all'istruzione e chiaramente invece di andare verso un miglioramento non possiamo che immaginare un peggioramento delle condizioni di vita dei nostri studenti e dei nostri laboratori.